Benvenuti, cari follower. Quindi non lasciatevi ingannare dal clima caldo e stabile. Preparatevi al ritorno di forti tempeste di neve sull'Italia. Questa è la calma prima della tempesta. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarsi mettendo mi piace. A questo video, poice, lavoriamo molto duramente per creare questo contenuto per te. Tutto si ho che vi ciediamo e di sostenersi mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche. Quindi, come vedi sulla mappa di fronte a te. L'ultimo aggiornamento rispetto al modello americano indica l'ingresso di una gigantesca ed enorme massa polare verso la Scandinavia, proveniente dall'Europa nord-occidentale. Questa massa molto fredda raggiungerà l'Italia negli ultimi giorni di quest'anno 2023. Porterà con sé abbondanti nevicate ed un'ondata di freddo molto intensa. Come vedi davanti a te, il modello americano raffigura un'altra forte discesa polare sull'Europa, che raggiungerà l'Italia negli ultimi giorni di questo mese, dicembre. Come puoi vedere davanti a te in blu scuro, l'aria polare molto fredda entrerà nel nord G, per poi approfondirsi gradualmente verso le regioni centrali e meridionali con tempo molto freddo. Forti nevicate a quote molto basse e anche in pianura in grandi quantità. La buona notizia è che questa potente tempesta potrebbe continuare per diversi giorni, fino all'inizio del nuovo anno. Quindi una notizia molto felice per tutti gli amanti dell'inverno. La siccità non durerà a lungo e gli aggiornamenti indicano una forte caduta polare sull'Italia negli ultimi due giorni di questo mese, dicembre. Con enormi quantità di neve e pioggia e maggiori dettagli, restate sintonizzati più tardi con l'avvicinarsi del periodo... Grazie. Grazie.